Eccoci sul passo Sella all'altezza di 2240, c'è Sole, c'è Ale, c'è Raz, c'è GSR 600 di Raz e c'è l'onda Hornet di Sole che è molto più veloce di quella di Raz. Qui è uno spettacolo oggi, temperatura segna 15 gradi, bellissimo, c'è traffico, parecchia gente, casino di moto, laggiù in fondo si può intravedere la marmolada e là dietro si può intravedere il panettone. E se si abbassa la camera si può vedere il colibri. Bene, ragazzi salutate il popolo di YouTube. Ciao Ne, sei vien? Ciao Ne, al prossimo passo.